Il vincitore della nonna edizione del Wine Excellence Award, promosso dall'American Chamber of Commerce in Italy, è il gruppo Mezza Corona. Il prestigioso riconoscimento che è stato consegnato nel corso di Wine Italy viene ogni anno destinato alle cantine e alle personalità che più hanno contribuito allo sviluppo del comparto vitivinicolo nazionale verso gli Stati Uniti d'America, il più grande e competitivo mercato al mondo. È il nono anno consecutivo che la Camera di Commercio americana decide di assegnare questo prestigioso premio che riconosce l'eccellenza nel comparto vitivinicolo italiano ed in particolar modo l'eccellenza nell'esportazione verso gli Stati Uniti, che è il mercato per la Camera di Commercio americana nostro di riferimento. È giusto, secondo noi, decidere di premiare chi in questo settore sta raggiungendo veramente un grande successo. Quest'anno abbiamo scelto Mezza Corona perché ha avuto una performance economica notevole, perché ha inaugurato, credo da più tempo, però un bellissimo showroom proprio a New York e quindi la combinazione di questi due fattori ci ha fatto pensare che forse era il caso, come dire, di dare un premio unico a un'azienda che ha dimostrato davvero di credere nel mercato americano con risultati e ritorni davvero importanti e impattanti sui loro conti. Grazie a tutti.